Sono qua da parecchi anni e come io e Napoli stiamo crescendo insieme, guardando le classifiche, guardando le finanze che meno riguardano, però Napoli sta diventando una grande società. Di questo sono felice di fare parte di questa squadra e vogliamo crescere ancora di più. Sicuramente fa piacere che dicono che siamo top player, io non lo penso, che sono io, ma come ho detto Napoli sta facendo grandi cose, sta crescendo e vogliamo fare parte di questa società. Grazie.